Il maestro Franco Bergamini al clarinetto presenta l'ultimo saluto al maestro Vittorio Borghesi. Il maestro Franco Bergamini al clarinetto presenta l'ultimo saluto al maestro Vittorio Borghesi. Il maestro Franco Bergamini al clarinetto presenta l'ultimo saluto al maestro Vittorio Borghesi. Il maestro Franco Bergamini al clarinetto presenta l'ultimo saluto al maestro Vittorio Borghesi. Il maestro Franco Bergamini al clarinetto presenta l'ultimo saluto al maestro Vittorio Borghesi. Il maestro Franco Bergamini al clarinetto presenta l'ultimo saluto al maestro Vittorio Borghesi. Il maestro Franco Bergamini al clarinetto presenta l'ultimo saluto al maestro Vittorio Borghesi.